Eccolo. Ciao community, ciao a tutti da Spremute Digitali. Allora, ben ritrovati. Finalmente siamo live, era ora, e devo dire che insomma sono casatissima. E oggi partiamo con queste video spremute che sono una sorta di salotti digitali, degli appuntamenti per stare insieme e per fare quattro chiacchiere con degli ospiti speciali. Insieme a me, per rendere la cosa un pochino più energetica, ci sono due vitaminici ragazzi. Abbiamo Marco Visco, che ci segue da dietro le quinte e farà in modo che non l'andrà storto. E poi c'è Gianluigi Cacciotti, qui vicino a me, che ringrazio moltissimo e che saluto. Insomma Gianluigi, ci siamo, sei pronto? Ci siamo, finalmente, come hai detto tu, iniziano queste dirette spremutizie dove approfondiremo un bel po' di argomenti. Cominciamo direi anche subito col botto perché il nostro primo ospite, già lo sapete ovviamente, ma è un ospite d'eccezione e ci aiuterà un po' anche a far chiarezza su alcuni aspetti della SEO. E non vedo l'ora anch'io, non vedo l'ora di far iniziare questo ciclo che si prospetta molto succoso di novità, notizie, approfondimenti e informazioni per tutta la nostra community. Ma lasciamo spazio adesso al nostro ospite, quindi Sara, quando vuoi. Esatto, iniziamo questo primo appuntamento come dicevo prima con un ospite molto speciale che ringrazio molto per essere qui con noi e quindi diamo il benvenuto a Francesco Margherita che ci parlerà di SEO e lui è autore del libro SEO Gardening e niente, ciao Francesco, benvenuto. Pronto, pronto, ma vi sento anche senza... Come state? Buongiorno. È una magia, senza telefono anche. Ormai senza telefono, ma StreamYard funziona benissimo. Hai visto? Che chicca. Grazie per avermi invitato. Grazie a te, grazie a te per aver accettato, grazie a te per aver dato inizio insieme a noi a questa avventura che, come ci hai detto, insomma, magari è un po' tardi, magari qualcuno si è mosso molto prima, però meglio tardi che mai, insomma. A proposito appunto di dirette, di live, di contenuti, ecco, più che altro. Io ho letto ovviamente il tuo libro, un libro che ho rivisto anche dei video di presentazione che è dello stesso in cui non... Esatto, non faremo product placement. Aspetta, 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 via. No, scogli, no. Vai, messaggio promozionale. Non c'è bisogno. No, non c'è bisogno infatti anche perché ormai è un'istituzione, quindi è sicuramente un libro che hanno letto in molti, secondo me è proprio perché ha funzionato anche una chiave di rendere la SEO un qualcosa un po' più lontana dagli algoritmi e dalla matematica e un po' più vicina alla sociologia e all'aspetto umanistico. Tu infatti ci dici che chi si occupa di SEO deve essere in grado di osservare un po' il mondo e di capirlo e interpretarlo con gli occhi appunto con gli occhi e con le abitudini degli altri. Ecco, ci vuoi spiegare intanto questo concetto anche per chi non ha letto il libro? Certo, è il concetto di normalizzazione, no? Noi siamo tutti in lotta perenne fin da quando siamo poco più che bambini con il nostro ego. Soltanto poche creature su questa terra e in certe incarnazioni, diciamo, sono riuscite a venirne a capo. Tra questi ricordiamo il Buddha, Gesù Cristo e Malgioglio, ovviamente. Siano Malgioglio. Sono personaggi che sono riusciti diciamo a osservare il mondo non con i propri occhi. Noi commettiamo tutti l'errore fondamentale di attribuzione che è quello tipico dello scienziato ingenuo. È una roba che si studia in sociologia in effetti. Siamo portati a pensare che le cose siano esattamente come le vediamo noi. Il problema è che noi a questo mondo siamo soltanto dei filtrini, poco più. Questo siamo noi. Cioè filtriamo ciò che i nostri sensi percepiscono attraverso la lente della nostra sensibilità personale, privata, personalissima. Quindi sto facendo un discorso ancora più stretto di quello che faceva Kant. Kant diceva no, noi la realtà non la possiamo percepire perché per come funziona proprio il nostro cervello non c'è dato di vedere la realtà. Io dico ancora di più la realtà non solo non possiamo percepirla ma ognuno di noi vede una cosa diversa. Almeno Kant diceva gli esseri umani vedono una cosa in un certo modo. Io manco quello. Sapete che sta girando questo screenshot un'altra volta? È un evergreen delle cose che girano su Facebook di questa scarpa che non si riesce a capire se sia grigia e verde oppure bianca e rosa. Se tu usi l'emisfero destro in un certo modo se usi l'emisfero sinistro in un altro alcuni la vedono a volte verde acqua e a volte rosa e quelli sono i bipolari fondamentalmente. quindi non sai più come cavartela. Del resto su Facebook si scoprono tante cose. Abbiamo scoperto che Sepulveda ha scritto Cent'anni di solitudine. Sepulveda. Io Sepulveda neanche lo conoscevo. Per me Sepulveda era quello che aveva inventato il Mocio. Il famoso Mocio di Sepulveda. Invece no. Poi ti accorgi che Sepulveda è invece uno scritto. Però sicuramente non ha scritto Cent'anni di solitudine che invece voi sapete benissimo è stato scritto da... Buon anno. Aspetta che cerco su Google. Gabriel Garzia Marquez. Gabriel Garzia Marquez. Che è un giocatore del Milan. Come sapete. Ho venduto. Ho venduto. Sono sempre giocatori. Sai sono ignoranti però sono belle donne corrono dietro a quelli. Invece no. Scrivono anche. Fanno cose molto belle. Quindi dicevo bisogna tornando seri bisogna rientrare in possesso della facoltà di essere gli altri. Quindi non soltanto di compenetrarsi. Devi proprio diventare l'altro. Questo è lo sforzo più bello per cercare di capire quello che succede nel motore di ricerca. Oggi vi farò alcuni esempi se volete rispondendo anche a magari qualche domanda che arriva. per quanto riguarda il modo in cui si può guardare attraverso le pagine di risposta del motore di ricerca. Io dico sempre non in profondità. Cioè non c'è bisogno per studiare una SERP di Google non c'è bisogno che ti studi tutti i risultati per bene in fondo. Cioè devi guardarci attraverso. Cioè devi cercare di intuire che cos'altro interessa a quelle persone che però non viene non viene trattato dai siti di un certo tipo. Il discorso si può complicare tantissimo perché ci accorgiamo che le pagine di risposta di Google sono tante volte compilate da risultati come se fossero le foglie di insalato. Il tipo di risultato diverso se cerchi per esempio la pinza romana voi siete laziali entrambi sapete cos'è la pinza? Eh sì sì io me la sogno la notte visto che è con questa quarantena. Ma per fare appunto un esempio più vicino a voi la pinza romana ecco pinza romana escono vari risultati se ci facciamo questo è un bel esempio escono ad esempio risultati esce un risultato B2B di un fornitore che produce farina poi esce integrazione ricette video integrazione immagini poi escono altri risultati di foodblog a vario titolo cioè esce Cookist che è il diciamo lo scorporamento di cucina.fanpage.it che adesso si chiama Cookist hanno messo un dominio a parte escono altri esce come si chiama giallo zafferano cioè i domini trust quindi sicuramente sempre foodblog però di tipo diverso allora vedi come Google cerca di andare incontro a esigenze diverse si tratta di capire che cosa ci si aspetta di trovare su un certo tipo di sito e non in generale ma su un certo tipo di sito e che però manca riuscire a uscire da sé e quindi ci sono anche molti aspetti che incontrano la spiritualità se vuoi anche che cercano di indagare le sovrastrutture della psiche umana per accortirci di un'infinità di cose che noi possiamo fare che in realtà facciamo senza renderci conto ci portano a indagare le serpi in un modo mai visto prima è di tutto questo che io parlo nel manuale di Theo Gardening giunto alla sua seconda edizione è che è diventato un testo è un testo che a me mi hanno raccontato cosa addirittura ci sono gli stagisti delle grosse agenzie di comunicazione che durante le riunioni quelle sai quando sono al cospetto dei loro referenti i loro mamma santissima si trince si portano il libro per fare per fare scudo cioè quelli dicono no bisogna fare così e loro si fanno oh no sul manuale c'è scritto che invece bisogna fare così capito quindi io sono diventato una specie di scudo io pulisco la coscienza come se come se avessi quella roba inventata da Sepulveda pulisco le coscienze dei giovani SEO capite? a proposito di pulire le coscienze visto che ultimamente è uscito fuori l'algoritmo BERT nel 2020 questo grandioso annuncio e tutti subito a buttarsi a parlare di questa cosa a volte non capendo il succo il vero discorso cosa è cambiato veramente con questo algoritmo nel 2020 nella SEO se veramente qualcosa è cambiato poi da troppo ecco allora ma noi che cosa ne vogliamo sapere di quello che succede là dietro quando nel 2018 ad agosto caddero tutti i siti perché ci fu quello che poi fu rinominato medical update e cadero un'infinità di siti successe il delirio ogni SEO comincia a dire qualcosa di diverso e tutti avevano torto e tutti avevano ragione alla fine per assurdo prendevamo per buona anche l'ipotesi di chi arrivava e diceva no ma secondo me qualcuno a Mountain View è inciampato ha staccato la spigna si è spento un attimo tutto dopodiché l'hanno riattaccata in fretta e furia e si è messo a posto perché quest'ipotesi avrebbe dovuto avere meno senso rispetto a quelle altre ora quello che succede con Google Earth il meccanismo di intelligenza artificiale per cui diciamo c'è una diversa comprensione da parte del motore di ricerca il motore di ricerca riesce a sistemare meglio le intenzioni di ricerca e capire meglio la pertinenza lato macchina cosa accidenti pensiamo di capirne noi Google è una black box e rimane una black box ok mica ce lo vengono a dire specifica ma quando pure ce lo venissero a dire ci sono i brevetti a noi questa cosa non deve interessare quello che vi voglio dire è quello che si vede per un lungo tempo per un lungo tempo abbiamo visto che un risultato una pagina web in sé poteva ottenere risultati spettacolari di posizionamento anche indipendentemente dal contesto cioè dagli altri contenuti dello stesso sito su cui si trovava mi sembra di capire che in questo momento invece il tipo di sito è il volume complessivo dei contenuti seguitemi è importante questo passaggio il modo in cui sono organizzati all'interno del sito quindi la seo complessiva che coincide con gli aspetti legati alla scansione alla scansionabilità delle pagine e all'architettura dei contenuti incidono come dire contano sul singolo contenuto quindi non è più la singola pagina che può riuscire da sola a venire fuori perché funziona molto bene ma Google più e meglio di prima riesce a fare attenzione al contesto in cui quella pagina è inserita vale ancora di più una cosa di cui già parlavo tanti anni fa e che cioè il contesto deve farla da padrone il contesto sia all'interno della singola pagina sia all'interno di un bouquet di pagine che caratterizzano un'area di un sito a grandi linee nel 2018 perché è da lì che poi è partito tutto da quel down che ci fu metà dei siti del pianeta andarono a gambe all'aria e l'altra metà prese il posto di cui è una roba assurda successe che capimmo una cosa importantissima cioè per esempio se hai un sito di fitness non puoi pubblicare la ricetta della parigiana di melanzane live non puoi pubblicare l'articolo sulla meditazione non puoi pubblicare che ti devo dire l'articolo che parla delle scarpe per fare le scarpe migliori per fare fitness sacrosanta verticalità chiamiamola così sono tutte cose che centrano sicuramente centrano col fitness però capimmo in quel momento che andavano ad annacquare il piano editoriale se hai un sito di fitness porca paletta devi parlare degli esercizi questo cioè devi far vedere gli esercizi e basta quindi il contesto di significazione si è molto stretto google è diventato molto più bravo e anche in questo c'è intraverso a capire quali argomenti tratta nello specifico e quali no non basta più dire è un sito che parla di salute e benessere che vuol dire salute e benessere devi dirmi esattamente di cosa parla quel sito non lo devi dimostrare perché il mio blog SEO Garden perché non si posiziona più per tante chiate consulente SEO sono in ottomillesima pagina per consulente SEO perché non si posiziona più una volta ero sempre primo ero primo ero primo consulente SEO tutti mi chiamavano non prendevo nessuno perché quando sei primo per consulente SEO ti chiamano quelli che vogliono pagare 200 euro tutto quindi per fortuna sono sceso adesso mi chiamano solo quelli che mi conoscono per fortuna però perché sono sceso perché se poi sul mio blog trovi una immonda quantità di pagine che parlano degli affaracci miei ok cioè a un certo punto sì ci sono un sacco di articoli sulla SEO ma ci sono anche una montagna di contenuti che parlano della mia visione del mondo parlano della mia gatta morta io anche dei miei amici morti è un sito pieno di necrologi il manuale ogni volta che moriva un amico io facevo l'articolo perché lo sentivo di fare però non c'entrava niente con la SEO e quindi il mio piano editoriale mano mano s'annacquava 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 finché l'ho visto proprio sulla mia pelle e a un certo punto diciamo ma tu sei molto meno per esempio Laura Venturini io l'ho l'ho avuta in una diretta Laura Venturini sì grande Laura l'abbiamo anche intervistata su Spremute e io laura ma tu perché sei posizionata così bene per consulente come ti perché come ti permetti salutiamo Laura a proposito se ci sta seguendo ciao Laura ciao Laura lei ci disse una cosa interessantissima assolutamente allineata con questo che vi sto dicendo adesso cioè guardate è quello il mio sito è molto asciutto è molto asciutto cioè pochi contenuti che parlano tutti quanti allora vedi il contesto lo vedi li vedi i contorni i siti si posizionano devono avere una buona SEO quindi devono essere facilmente scansionabili non devono avere ventimila righe di codice per pagina magari una marcatura semantica discreta dopodiché è tutta una questione di focus sugli argomenti si posizionano i grossi CMS fanno una confusione di pazzi quindi alla fine si generano un sacco di codici ridondanti pagine in più indipendentemente da quello che scriviamo eh quindi praticamente mi vuoi dire più o meno che anche se si utilizzano degli strumenti per trovare quelle che sono delle parole chiave delle query di ricerca che possono essere utili a quello che è un blog però a volte questi vanno a cozzare con quella che può essere la semantica e la domanda latente e queste due parole sono utilizzate a sbafo da delle persone che parlano 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 ma poi magari non sono proprio consapevoli di quello che stanno dicendo la questione della domanda latente la domanda latente è un concetto economico eh chiaramente io quando nel manuale di SEO Gardening e nel mio blog parlo di domanda latente mi riferisco a a una riedizione del concetto cioè io non sto parlando di economia quando parlo di domanda latente ma parlo di una domanda non espressa ancorché molto presente eh se voi guarda io partirei con un esempio proprio per farmi capire vado? vai 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 ben accetti voi sapete che il per gli Mac user sapete che esiste un computer sia MacBook Air il MacBook Air da 13 pollici monta di base il processore i5 ok? tutte le recensioni sul MacBook Air sono fatte solitamente su processore i5 cioè sul computer così come ti arriva a casa di solito ti ordini la versione normale per fare le recensioni questo anche sui grossi giornali a tema eh salvo che però ti accorgi frequentando i forum di settore che molte persone si domandano come funziona quel computer col processore i7 perché puoi averlo customizzato cioè puoi ordinarlo con il processore più potente però non lo ordina quasi nessuno però tanti se lo chiedono hai capito la domanda latente allora laddove e parliamo di MacBook Air di MacBook Air che è una roba che ogni volta che esce un modello nuovo viene recensito in tutte le salse non lo trovi un argomento che non sia già trattato da altri lo schermo come si vede la tastiera com'è i tasti su alti su bassi eh il volume le casse come le hanno fatte questa volta le casse cioè non lo trovo i principali blog tech che parlano di questo argomento non sono tecnici proprio allo sfinimento diciamo ecco le raccontano tutti i topic disponibili allora cioè la domanda come fai a trovare un argomento che sia molto cercato ma allo stesso tempo poco trattato beh per quanto riguarda gli argomenti conversazionali cioè i temi conversazionali sul Mac si parla tantissimo forse solo per la gente che litiga su Facebook sono meglio i Mac sono meglio i PC eh ci sono ancora tanti forum molto validi eh in cui si discutono questi temi e allora eh se qualcuno dovesse provare lo so perché è successo qualche anno fa sono stato testimone di questa cosa due lettere i7 all'interno di un contenuto che doveva tranquillamente essere la recensione di un MacBook Air da 13 pollici con il processore i5 la recensione non si posizionava in nessun modo eh andammo semplicemente a sostituire i5 con i7 quindi neanche due lettere ne cambiamo una sola che poi fondamentalmente è un numero è vero non è anche una lettera un carattere andammo a cambiare un carattere distribuito in pagina vabbè non è vero in realtà andammo anche a creare delle specifiche parlando appunto del processore quindi ragionammo anche del concetto di keyword proximity cioè quanto sono prossime vicine tra di loro parole che hanno a che fare con un certo topic sono concetti antichi della SEO il concetto di keyword proximity e di keyword prominence inquadrano la proximity inquadrano quanto sono vicini tra di loro i termini di un certo topic prominence invece inquadra quanto è vicino all'inizio di un'area di interesse come dire quando un termine prominente all'interno di un titolo è un termine che si trova all'inizio del titolo termine prominente all'inizio del paragrafo si trova all'inizio del paragrafo quindi è quello che viene prima poi c'è la proximity che invece ha a che fare con la vicinanza tra di loro non esiste non si può matematizzare questa cosa parliamo di algoritmi per la seosemantica però non ne parliamo in termini matematici perché non se ne esce anche perché ogni contesto ha la sua poi ci sono anche degli studi per esempio Santi Achille che saluto seo spaziale grande tecnico sta lavorando ora dirò questa cosa lui mi odierà tantissimo diciamo quelle altre cose non bisognerebbe dire sta però lavorando a a un algoritmo per la prossimità un algoritmo di prossimità che sembra una cosa tipo giro col drone ti becco non dove riusci sei uscito senza mascherina ah se ti acchiappo se ti acchiappo col drone ti passo sopra lui sta organizzando un algoritmo di prossimità che serve proprio a capire quale debba essere la proposta in termini proprio matematici di te non so quanto possa funzionare io ragiono soltanto da sociologo non ci capisco niente io di certe cose ammiro moltissimo il lavoro di Santi Achille perché lui è uno che va proprio a problematizzare gli informatici tante questioni su cui ho riflettuto negli ultimi anni e avercene di più di professionisti così quindi al di là delle pippe matematiche che non è il caso di farsi ritorno alla radice cioè si tratta di capire e in questo caso la frequentazione dei forum è stata molto utile che non bisognava andare in profondità a capire se dovevo parlare dello schermo del pixel della cassa acustica della durata della batteria dell'altezza dei tassi no bisognava andare attraverso e andare a cercare cose che non sono visibili per la chiave MacBook Air 13 ma che rispondono ad altre query solitamente aperte ai forum e quindi ti devi spostare devi fare quel famoso passo di lato che ti porta a indagare altre attenzioni di ricerca potrei farvi tanti altri esempi per esempio un'altra domanda latente ecco mi viene in mente un test molto bello che fece il mio amico Marco Ronco anni fa che è interessantissimo perché sposta l'attenzione sul tipo di sito ok il materasso antiacaro Marco Ronco seguì non so se li segui ancora però all'epoca seguiva un'azienda che produceva materassi producevano materassi antiacaro cioè una delle chiavi più interessanti era il materasso antiacaro ok lui ha avuto la faccia tosta di proporre di realizzare l'articolo la pagina il materasso antiacaro non esiste perché fondamentalmente era vero non esiste il materasso antiacaro ah non so sono esperta in queste cose non esiste quindi però è una chiave interessante diciamo per vendere materassi quindi tutti i concorrenti ti facevano vedere il materasso dicendo il materasso antiacaro lui no lui ebbe la faccia tosta di dire la verità cosa che però già si trovava sui forum benessere ok però nessun sito aziendale che vende materassi aveva detto una roba del genere altro esempio sviluppato da me un po' prima immaginati il sito di uno studio dentistico che ti viene a dire che la pulizia dei denti è dolorosa e se non è dolorosa vuol dire che non è fatta bene ok queste sono tutte cose che trovi è forte questo perché se vai su qualunque studio dentistico quando si parla di pulizia dei denti dovesse capitare in mezzo la questione ma fa male è dolorosa ti dicono sempre no non ti preoccupare non succede niente al massimo senti una pressione dell'abblatore ma non ti preoccupare è proprio niente 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 bugiardi 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 bugiardissimi in realtà nei forum se vai su al femminile se vai su anche sui forum genetici senza dover andare sui forum di salute è molto frequente la discussione e molti dicono proprio questa cosa quindi la questione è il tipo di sito perché un conto è uno studio dentistico un conto è un forum un conto è uno studio dentistico che ti dice la pulizia dei denti è dolorosa e se non è dolorosa non è fatta bene un conto se lo dice un forum i forum questa cosa la dicono già gli studi dentistici no allora capisci che il discorso è molto complesso perché non complicato è complesso perché non si tratta di individuare il topic giusto si tratta di individuare il topic giusto per il sito giusto certo io voglio siccome sono masochista dentro voglio aggiungere ancora un po' di complessità alla questione oltre a tutto questo discorso appunto di spostarsi un po' di lato per saper leggere meglio nel libro si nomina anche una teoria che insomma affonda le radici non proprio nel 2020 2015 2018 insomma non è proprio recentissima però ci dà una spiegazione anche di come ragioniamo come non ragioniamo e mi riferisco alla teoria degli effetti non intenzionali perversi cioè quindi la discrezia che c'è lo scarto tra ciò che intendiamo fare e ciò che poi realmente facciamo anche proprio nella nostra attività online e quindi volevo anche capire come affrontare poi anche questa difficoltà poi di interpretazione del mondo che ci circonda e beh gli effetti non intenzionali perversi sono una teoria di un altro famosissimo sociologo che si chiama Robert Merton sociologo del passato che però è stato autore di un sacco di teorie interessantissime e quindi io mi sono iscritto a sociologia per caso io a quell'epoca veramente cioè passavo di lì come dire scherzavo poi mi sono trovato però questa è un'altra storia la questione degli effetti non intenzionali perversi riguarda il fatto che tutti quanti in questo periodo dicono ma sai che c'è adesso io vado al supermercato per evitare la fila vado a luna proprio a ora di pranzo vado a luna supermercato che è aperto a orario continuato io vado a luna e così sono sicuro che non trovo nessuno se però fanno tutti quanti questo pensiero arrivi a luna e trovi una fila chilometri come le partenze intelligenti siccome le partenze è proprio quello Robert Merton all'epoca di Robert Merton non è che ci stavano tutte queste macchine però qualcosa sì non come oggi tradotto in termini SEO il grosso problema è proprio di natura ecologica cioè di ecologia della keyword research cioè se tutti quanti fanno keyword research allo stesso modo cioè individuando le chiavi a corrispondenza di frase maschera per il viso devo posizionarmi per maschera per il viso allora faccio un articolo che si chiama maschera per il viso con il cetriolo uno che si chiama maschera per il viso con le fettine di limone maschera per il viso così maschera per il viso qua là dentro ci mette sempre gli stessi topic che esplorano gli strumenti il risultato è che stai dando google impasto a se stesso stai contribuendo ad aumentare il rumore di fondo sulle SERP pubblicando articoli che non sono spazzatura per carità però fondamentalmente sono tutti uguali trattano tutti quanti le stesse cose è anche un po' colpa nostra perché negli ultimi 10 anni abbiamo insegnato negli ultimi 15 anni in realtà abbiamo insegnato a fare keyword research in questo modo è anche colpa nostra però io mi sono ravveduto cioè io qualche anno che vado in giro a dire non fate più keyword research come ve ne abbiamo parlato prima fino ad oggi cercate di avere uno sguardo più fresco cercate di avere uno sguardo ecologico finalmente ecologico della keyword research cioè smettetela di ragionare in profondità aprendo le chiavi a corrispondenza di frase le chiavi correlate addirittura vedete c'è c'è anche un software che si chiama keyword shitter che anch'io utilizzo molto spesso perché questa defecazione di parole chiave è il cagatore automatico di parole chiave è un tool cercatelo su google è gratuito peraltro sì sì ma io lo conosco benissimo perché mi ci diverto un mondo a volte a leggerle tutte ci vuole mezza giornata per leggerle tutte però è molto divertente ci sono delle assonanze allucinanti il keyword shitter il primo aveva un problema nel senso che quando cominciava cioè tu lo lanciavi e poi a un certo punto dovevi dovevi stopparlo perché se non lo stoppavi lui andava avanti all'infinito finché non si apriva un buco nero gigantesco che potenzialmente poteva inghiottire l'intero sistema solare non è bello non è bello e poi prova tu a trovarti dentro proprio in una situazione del genere non aiuta hanno fatto una seconda versione dello shitter che è il keyword shitter 2 che pure si trova su google che è molto più ordinato a un certo punto si ferma e quindi diciamo evita situazioni catastrofiche però attenzione non bisogna affidarsi troppo ai software cioè bisogna provare a fare quel passo di là perché è molto importante a me mi viene in mente un altro esempio di Simone Righini un altro grandissimo esperto di posizionamento su base semantica che fece un contenuto su un sito che adesso non è più tanto ben posizionato perché era una specie di sito test cioè era un sito che non aveva un'architettura tale no? come serve oggi però aveva delle singole pagine che funzionavano veramente bene ed è rimasto nella storia ora si parlava di keyword cheater questo contenuto sulla stitichezza andatelo a cercare di Simone Righini sulla stitichezza che è un suo metodo infallibile per vincere la stitichezza ah ok questo contenuto lui dice un sacco di cose soprattutto utilizza una terminologia che gira molto intorno al termine cacca cacca dura cacca molla cacca profumata cacca così cacca colì e quindi cercando quante volte viene utilizzato e sviluppato il termine cacca ti accorgi proprio di come è spalmato proprio uniformemente guarda anche il gesto lungo tutto l'intero corso del contenuto ed è interessantissimo perché in tutti gli altri siti di settore in cui si parla di stitichezza non si usa mai il termine cacca preciso quindi parla come mangi e attento a quello che mangi non sai mai di stite però il fatto di aver usato proprio quella terminologia molto pane al pane vino al vino evidentemente deve aver reso il suo lavoro più accessibile più colloquiale quindi l'avrà premiato io è un contenuto che suggerisco a tutti di leggere un po' come quando ti dicono ecco vai in campagna ci sono le vacche le vacche lasciano respira respira pieni polmoni respira pieni polmoni perché fa bene spilla tutto e abbiamo una domanda di Annulea sì un po' lunghe poi cerchiamo di un po' di sintetizzarla Francesco non ti vede più sei sommerso ecco qui bravo questo successo suppongo ora inevitabilmente porterà a rivedere molti schemi ci sarà più attenzione al digitale e l'online sarà visto come il canale di vendita canale ma tutto maiuscolo quindi particolare accento cosa succede ora tutti si fonderanno in maniera più o meno approssimativa e disperata sul web e cambierà qualcosa in termini di pratiche seologiche algoritmi di ricerca google secondo te hai in mente qualcosa di diabolico eh io che ne so eh ma voi io faccio il consulente seo mica sono cosa la eh mi mi facendo girare da un po' del divino hotel ma col suo scritto il tuo sito si posizionerà migliori migliorerai del 30% in sei mesi risposta tipica che do a chiunque mi chiede ma facendo seo quanto migliorerà il mio business migliorerà del 30% in sei mesi ma come fai a dirlo impongo le mani e tutto funziona sì sì questo per chi non sa che la seo non è una scienza predittiva sostanzialmente allora eh mi fa un po' sorridere la domanda che inquadra diciamo quelli che adesso penseranno al web come il canale di vendita e quindi si butteranno in modo disorganizzato in modo disunito no senza attenzione come se fino a oggi le persone che hanno usato il canale capito come se l'approccio finora fosse stato ordinato organizzato come se la gente finora andando online nella maggior parte dei casi avesse avuto un'idea vaga di quello che stava facendo scusate se manca loro vedete sono sanguigni erai ragione però le fai meglio manca adorarti ho visto cose che voi umani non potete immaginare siti tirati su alla bella e meglio con pretesa di con la velleità quantomeno di ottenere dei risultati anche su serpo complesse che sono andati tantissimo ad aumentare il rumore e nel tempo poi peggiori anche il motore di ricerca perché tanto rumore da dare in pasto ai crawler di google non fanno bene nemmeno alla visibilità dei siti buoni comunque che cosa cambierà voi avete visto come la serp ecco come come sia cambiata la pagina di risposte di google per la query corona se voi cercavate corona due mesi fa i risultati che uscivano avevano a che fare con fabrizio corona quindi con gli aspetti del gossip legati a corona magari qualcosa sulla corona britannica magari qualcosa sulla virgola chiaramente se cercate adesso corona niente di tutto questo viene visualizzato quindi non è che cambia google non è che google c'è in serbo cambia quindi i risultati cambiano sono le persone che fanno ricerche completamente diverse in questo momento alcuni siti web anzi tutti i siti web generalisti di annunci immaginate i siti web di annunci quelli più grossi che vi vengono in mente stanno risentendo in termini di traffico non di visibilità di traffico sulle portanti storiche che vi devo dire quali sono le portanti storiche di un sito grosso di annunci generalista i massaggi erotici che poi non li chiamano neanche codronomi li chiamano massaggi cinesi ma anche gli annunci di lavoro anche i massaggi cinesi perché i cinesi ma i massaggi cinesi la compraventa di auto le offerte di lavoro l'immobiliare ok cioè in questo momento viene proprio meno il volume di ricerca su queste chiavi nessuno va a fare un colloquio di lavoro ma sì magari qualcosa in terra lavoro ci sono scusate delle mosche che girano perché ho usato il keyword shitter prima e quando lui si fa il colloquio e allora chi va a fare il colloquio di lavoro chi si compra una casa adesso ma chi la cerca ma pure per andare in affitto chi si compra un'automobile capite che questo è un momento in cui bisogna avendo lo sguardo sufficientemente fresco prima della diretta peraltro ne parlavamo individuare gli armiti di visibilità i corsi di inglese online le lezioni di chitarra online quante cose quanti professionisti possono deviare il loro lavoro sull'online di là delle grosse convention che molto probabilmente verranno spostate sul canale digitale certo sì gli psicologi gli avvocati questa è una cosa saggia che le persone potrebbero iniziare a fare invece di magari lamentarsi adesso non facciamo più niente no si poteva fare prima e a maggior ragione si deve fare adesso i nutrizionisti ma i nutrizionisti per legge non possono fare visite su skype il nutrizionista si deve vedere ho capito però non lo sai guarda che con questi chiari di luna alcuni aspetti legislativi potrebbero cambiare non dico che sono cambiati però se non possiamo più uscire di casa se ci dobbiamo incontrare con la mascherina potrebbero cambiare i legislatori potrebbero decidere di cambiare qualcosa e di favorire questo tipo di attività quindi l'altra cosa è che cosa possiamo fare sicuramente in questo momento avendo tempo a disposizione lo dico ai gestori di e-commerce è arrivato il momento di prendere le 20-30 schede prodotto e-commerce di aprirle e di migliorarle perché dico sta cosa perché lo dico avvicinandomi ecco ti guardo negli occhi un imprenditore che ci hai rotto l'anima nelle dirette del venerdì dei fatti di seo che ci hai fatto analizzare il tuo sito e noi che ti abbiamo detto le schede prodotto sono deboli ci hanno poco testo quel poco testo che hanno l'hai copiato dal produttore sempre lo stesso testo che tutti gli altri siti e-commerce usano e quando ti ho detto fai questo lavoro tu mi hai detto ma io ho 80.000 prodotti sul sito e io ti ho detto prendi i primi 20-30 per traffico e lavora su quelli e tu mi hai detto non c'ho tempo che vuoi fare questa cosa sulle schede prodotto è un conto un altro conto importante è fermarti un momento aprire Screaming Frog e fare una bella scansione del tuo sito perché uno dei problemi principali del siti e-commerce sono i filtri interni soprattutto i sistemi multifiltro che servono per creare per fare quelle ricerche polio-opzionate che generano una quantità di percorsi di scansione interni fragorosa proprio fanno rumore quando tu lanci Screaming Frog con questi siti senti che a un certo punto Screaming Frog comincia a gracchiare come se qualcosa di metallo avesse toccato il fondo proprio un rumore strano Screaming Frog forse devo cambiare il computer però questa è un'altra storia falla perché t'accorgi che un sito ecco a me mi è capitato una volta era Wordpress Avada tema Avada con WooCommerce sopra era un agriturismo in Liguria aveva 20 prodotti sul sito mi dissero Francia lancia un attimo una scansione su questo sito e io sì sì ora la lancio mentre parliamo tanto su 20 prodotti che sarà mai dopo tre quarti d'ora non si era ancora fermata la scansione stava ancora seguendo percorsi c'era un bel casino erano 35.000 percorsi di scansione interni per 20 prodotti allora non dico che funziona male WooCommerce WooCommerce funziona bene però bisogna fare attenzione a questi sistemi multifiltro perché è un attimo è una spunta una spunta nel back end non si rende conto perché queste sono cose che stanno sotto al cofano non si vedono amici che siete all'ascolto aprite bene le orecchie perché qua sono consigli seri questi veramente danno una grossa mano vanno viste queste cose perché non ci possiamo immaginare che fai il materasso Santiago non esiste cioè tutte le belle cose che dico e che si trovano nel libro che ho scritto nel libro verde hanno senso se c'è una buona SEO di base la SEO non ce lo scordiamo si fa ancora come 20 anni fa poi ci sono le riflessioni di frontiera le storie più evolute anche diciamo le pippe fantascientifiche però devono appoggiarsi su una SEO solida quindi non ci pigliamo in giro esatto e una domanda proprio su questo un altro settore cambiamo un po' il settore però rimaniamo sempre anche nel un po' nell'e-commerce ce la fa Raffaele ma un sito che si occupa di viaggi ha un elenco di hotel b&b che hanno la descrizione uguale ad altri siti di viaggi come si deve comportare come le schede di un e-commerce allora solitamente google cerca di google si rende conto quando un contenuto qui parlo per gli e-commerce ma vale per tutti i casi in cui uno stesso contenuto viene listato su più magari portali tematici quando google percepisce che c'è sempre lo stesso testo non lo penalizza questo ripeto vale per gli e-commerce e per tutti per quanto riguarda gli e-commerce la scheda prodotto con la descrizione è sempre uguale perché è quella fornita dal produttore non è penalizzante semplicemente viene ignorata quindi dico la stessa cosa a questa persona che ha fatto questa domanda se è uguale non devi tenere la pena non devi temere una penalizzazione piuttosto è come se non ci fosse quel testo l'indifferenza più che l'indifferenza più totale perché lo stesso testo che si trova altrove google se ne rende conto e lascia perdere ok capisco e francesco allora visto che già da chi ci segue come andrea comunque ha fatto una domanda sul periodo attuale te ne chiedo un'altra io quali sono quattro consigli che vuoi dare a chi ci sta seguendo ascoltando sulla SEO in relazione proprio a questo periodo di emergenza che stiamo affrontando allora due penso di averli già dati cioè l'idea di prenderti il tempo che serve per migliorare quello che fino ad oggi non hai avuto il tempo di migliorare e ripeto in caso in cui le pagine siano proprio tante parti da analytics capisci quali sono le pagine già visitate e lavora su quelle a partire da qui secondo aspetto abbiamo detto quello tecnico poi tu me ne chieste proprio quattro se vuoi anche di più insomma se pensi che sia opportuno no è che vedi piuttosto ecco una cosa che potrei provare a dire in questo caso messi a posto gli aspetti tecnici cioè assunto che la scansione del sito è buona e non basta neanche questo per esempio è un'altra cosa che potremmo dire guarda un po' fai attenzione al motore di ricerca interno del tuo sito perché molto spesso io vedo generarsi delle pagine dal motore di ricerca interno che non si sa come non si sa perché google comincia a indicizzare e se non le indicizza le segue comunque le scansiona cioè sono percorsi che magari non si trovano neanche sul sito quindi bisogna fare molta attenzione al modo in cui funziona il motore di ricerca interno quindi va analizzato caso per caso che cosa posso dire di più chiaramente io mi risulta difficile dare suggerimenti generici perché la seo è una cosa che io faccio con gli strumenti aperti guardando il singolo progetto genericamente posso dire è il momento di avere uno sguardo fresco sulle cose prima parlavamo del fatto che ecco facciamo l'esempio delle mascherine ci sono già adesso mentre parliamo persone che stanno trasformando il proprio e-commerce che magari vendeva accessori anche generici stanno cominciando a farsi domande su produttori di mascherine che si sono già messi in moto per creare delle personalizzazioni prima ecco prima ancora di andare online io vi raccontavo la storia del supermercato cioè il fatto che io sto andando al supermercato incontro persone che mi vedono e si spostano un po' c'è questo terrore lo sapete non ve lo devo dire io c'è questo terrore a condividere lo stesso corridoio del supermercato quindi io da una parte tu dall'altra quel suo terrore in molta parte è irrazionale in molta parte è razionalissimo in molta parte però è irrazionale perché quando noi vediamo uno con una mascherina ci si attiva proprio un'area del cervello primitivo rettiliano potremmo dire ma non sono esperto di queste cose Andrea Saletti ne sa sicuramente molto più di me però è come se si accendesse una lampadina inconsapevole che ci mette sull'attenti questa stessa lampadina dovrà essere utilizzata come stimolo per l'acquisto per la vendita di prodotti che da adesso ad andare avanti adesso entriamo nella fase 2 di 88 di Shurri prodotti che andranno veramente via come il pane la prima cosa che mi viene in mente è la personalizzazione delle mascherine tu mi facevi l'esempio degli alberchi vero? si si dei kit cortesia praticamente che cambieranno e verranno personalizzati con il gel con tutto quindi è proprio una ridefinizione anche di prodotti già esistenti e di nuova insomma anche nuova messa in produzione sì quindi credo che bisogna avere uno sguardo fatti salvi i problemi della SEO tradizionalmente intesa cioè il rapporto tra due software sito e google fatto salvo che c'è un buon rapporto tra questi due e che si è ragionato per migliorare il migliorabile in termini di contenuti io cercherei di dare un'occhiata ai trend e di capire che cosa ancora non ci è venuto in mente ora che parliamo di queste cose vedete sono già vecchie le cose che stiamo dicendo la mascherina personalizzata ancora non è però sono cose su cui chi ci doveva pensare ci ha già pensato ci stanno già lavorando certo ci stanno già lavorando quindi chi parte adesso è in ritardo sì sì il tempismo se non è tutto è molto insomma soprattutto in internet però io sono sicuro che c'è ancora tanta roba là fuori c'è tanta roba altre opportunità certo proprio perché abbiamo visto che cambiano proprio delle dinamiche cioè dinamiche come questa che fino a un mese e mezzo fa era impensabile proprio che il mondo si fermasse e situazioni che credevano insomma di essere al sicuro si sono ritrovate invece nell'immobilità e quindi o ci si rinventa o si interpreta comunque un po' si cerca di interpretare perché poi ovviamente le risposte le avremo soltanto una volta che torneremo lì fuori oppure si si lancia così bandiera bianca non ci si arrende insomma alla corrente come come fanno altri si cerca di di sopravvivere però con i risultati poi imprevedibili che si che ci si aspetta magari dovremmo orientarci più verso le persone piuttosto che sulla corsa al business che ci sta praticamente fagocitando cioè ci stiamo dimenticando di quelli che sono i bisogni reali delle persone che forse è quello che dovrebbe essere un po' più rivisto ecco certamente certamente anche il fatto di lanciare questi webinar no anche il fatto di cercare un confronto sempre mediato dal digitale però un po' più fisico rispetto alle classiche interviste le cose così è già un modo per stare più vicini alle persone poi ovviamente quando ho detto no guardate questo è un bel periodo per i webinar subito sotto i commenti no mi avete rotto le palle con sti webinar adesso vedo webinar con tutte le palle invece no dice no no sono sicuramente occasioni di scambio infatti a tal proposito vedo che continuano ad arrivare anche molte domande quindi le faremo botta e risposta subito con Claudio che ci chiede quali sono gli strumenti che usi cioè quali quelli fondamentali per fare una buona SEO grazie allora non si può prescindere dagli strumenti di google quindi google analytics e google search console sono gli occhi che servono per vedere quello che succede pur ricordandoci attenzione che la search console è uno strumento di google però non è google nel senso quello che ci dice la search console soprattutto da quando hanno ampliato diciamo le voci disponibili in copertura indice molto spesso piglia fischi per fiaschi cioè ci dice questo problema dipende da questo e poi non è vero niente quindi bisogna fare attenzione però comunque sono strumenti indispensabili screaming frog è uno standard nel senso che in tutte le agenzie web del mondo si utilizza screaming frog un po' come andare in uno studio di registrazione e trovare le casse yamaha ns10 quelle col cono bianco non si fabbricano più cioè quindi li sono standard non sono le casse migliore del mondo però ci sono quelle tutti gli studi allo stesso modo ci sono tanti altri software che fanno quello che fa screaming frog però screaming frog è uno standard si utilizza per gli audit sostanzialmente io sono ambassador per l'italia di semrush quindi ma non per questo io sono ambassador perché l'ho sempre ritenuto un software fondamentale per lo studio della concorrenza per la business intelligence in senso lato quindi non soltanto per fare seo c'è un ottimo tool di seo audit anche su su semrush così come ci sono delle funzioni di analisi della concorrenza che sono valide su 50 lingue diverse quindi abbiamo un database sconfinato di opzioni è una programmazione attualissima cioè voglio dire ogni mese ogni due mesi questi rivoluzionano l'interfaccia si inventano cose che a me mi sembra di impazzire questa linea la mia referente da San Pietroburgo mi manda ogni due mesi una mail con una lista di novità talmente lunghe che a me ogni volta mi cadono altri 18 capelli tra te vedi quanti è quello allora quello è e io c'avevo una testa piena di capelli quando li ho conosciuti c'è un team di sviluppatori fantastico e peraltro quando io gli chiedo cose poi le fanno veramente quindi ci sono anche dei tool mi fa piacere dirlo che risentono anche un po' della mia influenza diretta cioè del fatto di ci trovi anche delle cose quando prima parlavo di un archivo di research finalmente più ecologica ci sono dei tool per esempio il topic research è un tool sul quale si è riusciti a raggiungere una certa quadratura per quanto riguarda la ricerca dei topic che va finalmente al di là del dato grezzo ma va un po' va un po' più a fare quel passo di lato di cui parlavo prima quindi per me ormai vabbè sono sono tool irrinunciabili anche e per forza di cose perché diciamo alcuni risentono proprio di richieste cioè di customizzazioni che ho chiesto io sono privilegi sicuramente ho privilegi non è che uno chiama Sam Brush mi fai questa cosa apprezzo molto questa cosa quindi ricapitolando sono questi quattro Analytics Search Console Screaming Frog Sam Brush a me sostanzialmente non mi serve altro è un'ottima tool list quella che tu hai dato direi altra domandina velocissima di Gabriele che è un po' come chiedere prima l'uovo prima la gallina ovvero ci chiede quanto una buona strategia SEO ha aiutata dall'avere un brand forte e distintivo e viceversa se manca distintività quindi costruzione della marca e qualità degli strumenti può una strategia SEO fallire? cioè la domanda è interessantissima in realtà la questione di quanto la SEO è legata al brand e viceversa e ci sarebbe da parlare dovremmo fare un'altra ora di webinar per discutere di questo noi non abbiamo altri impegni quindi il problema è la SEO di brand la SEO di brand allora partiamo con alcune considerazioni voi avete presente Marco Montemagno sì penso tutti e gli amici voi che ci seguite ce l'avete presente? Marco Montemagno è un personaggio che fa adesso sta intervistando anche persone molto famose ha intervistato Giovanotti ha intervistato Galimberti ma personaggi molto importanti ma sui suoi progetti business sulle cose con le quali lui monetizza direttamente i suoi siti non hanno posizionamenti su Google questo è un esempio limite vi sto dicendo quando un brand è talmente forte che tu sei top of mind in partenza puoi anche lasciar perdere infatti non credo che a lui interessi moltissimo essere visibile sui motori di ricerca perché lui ha fatto tutto un lavoro da un'altra parte quindi rispetto ad altri canali rispetto al brand ma peraltro credo che lui ne parli anche tranquillamente poi lui si esprime anche in termini generali dice no ma la SEO non serve niente non so se l'ha detto veramente però mi pare di ricordare che una volta in un video disse più che la visibilità nei motori di ricerca è importante concentrarsi su altri canali è una cosa molto spesso vera molto spesso perché detto da un SEO è strano mi rendo conto se guardiamo il suo caso però in altri non è vera però nel suo caso è assolutamente così dopodiché posso dire il segreto qual è? il segreto è dal punto di vista strettamente SEO aumentare il volume di ricerca sulle chiavi di brand perché quando aumenti il volume di ricerca sulle chiavi di brand si stabilizzano i posizionamenti per le chiavi di ricerca Amazon vi faccio subito un esempio Amazon ha una SEO che ve lo dico guardandomi negli occhi la SEO di Amazon però non lo dite troppo in giro secondo me non è un granché dice perché? perché vanno a indicizzare tutta una serie di pagine relative ai filtri interni se per esempio cercate la tenda da sole su Amazon su Google scusate tenda da sole Amazon escono una quantità di risultati sovrapponibili quindi ridondanti che sono risultati del motore di ricerca interno però cosa volete che gliene freghi ad Amazon? cioè il volume di ricerca sulla chiave secca Amazon è di 20 milioni cioè 20 milioni di persone ogni mese scrivono Amazon nella barra di ricerca di Google io non voglio neanche immaginare il numero di query che contengono il termine Amazon a quanto deve arrivare se soltanto Amazon secca fa 20 milioni immaginatevi quante query contengono quindi sono query comunque brandizzati e gli zeri diventano troppi diventa difficile proprio arrivare a leggere questo numero quindi capite che a questo punto i rubinetti sono aperti sono spalancati quindi migliorare la percezione del brand la ricercabilità del brand crea un puntello molto forte questo vi voglio dire questo è il rapporto tra brand del sego ok ovviamente Francesco si assume tutte le responsabilità nei confronti di Amazon noi ne sentiamo nulla ovviamente ovviamente stiamo scherzando bene direi che ci siamo fatti una bella chiacchierata noi Francesco ti ringraziamo veramente di cuore per averci aiutato a iniziare questa un po' questa avventura anche dei live su Spremute digitali e vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri canali social dove soprattutto perché scoprirete il prossimo ospite esatto potrete rivedere ovviamente la diretta in più potrete scoprire anche il nostro ospite della prossima volta ok di nuovo grazie mille Francesco grazie a voi ciao a tutti i vostri ascoltatori grazie grazie a Sara grazie a te Gigi e ci vediamo per la prossima diretta un saluto ciao a tutti